Episodio serale del Racing Podcast per parlare del Gran Premio di Formula 1 che ha corso a Portimao, circuito che ha ospitato quest'anno tutte e tre le categorie motoristiche principali, quindi sia Superbike sia MotoGP. A Portimao si cercava un appuntamento con la storia per quanto riguarda Lewis Hamilton, appuntamento con la storia che si è coronato perché il pilota inglese ha vinto la 92esima gara della carriera e va di conseguenza a superare il record di Michael Schumacher, fermo da tempo a quota 91. Gli altri piloti nella top 5 di tutti i tempi sono Sebastian Vettel a 53, Alain Prost a 51 e Ayrton Senna a 41, ma quello che appunto è importante sottolineare è che quel fuoriclasse che è Lewis Hamilton ha vinto la 92esima gara della carriera dominando in un tracciato di Portimao che veramente poteva regalare già tante emozioni fin dall'inizio della gara. Una gara di Portimao, ma torniamo sull'immagine del circuito portoghese, che in realtà si prevede non asciutta ma bagnata e questo scompiglia già un po' le carte in tavola nei primissimi giri della partenza, dove le Mercedes apparentemente sono in difficoltà. Ma causa anche una scelta di gomme diverse perché le frecce d'argento andavano a partire con le gomme gialle. A un certo punto si vedono cose inarrabili con i piloti partiti con la gomma rossa che sembrano avere un passo incredibile e pazzesco. Addirittura Carlo Sainz con la mia McLaren si ritrova primo, non si sa lui nemmeno come, passando anche tra l'altro per campi in curva 1, superando chiunque, ma va bene. Nel frattempo le Mercedes si arrancavano con prima Hamilton che da primo perde la posizione, poi a un certo punto anche Bottas sembra avere la meglio e sembra superare il pilota inglese. Poi a un certo punto le cose si sistemano esattamente come dovrebbero essere con i piloti con la gomma rossa che perdono progressivamente potenza e di conseguenza in realtà meglio aderenza di gomma. Quindi Sainz da primo si ritrova sesto e anche altri piloti sprofondono in classifica. Vedi per esempio l'incredibile Kimi Raikkonen che ha 41 anni si ritrova a partire da sedicesimo addirittura a sesto alla fine del primo giro. Le Mercedes poi vanno a riconquistare le posizioni che contano in particolare con Bottas primo e Hamilton secondo. A un certo punto rimonta anche Max Verstappen che con la Red Bull finisce nelle prime posizioni e di fatto agguanta la terza posizione. In realtà la situazione sarà chiave al diciannovesimo giro dove Bottas praticamente perde prestazione con le sue gomme gialle. Hamilton alla meglio del pilota finlandese e poi da lì in poi sarà una vera e propria passeggiata per il pilota inglese che dunque va a vincere come dicevo la 92esima gara di carriera superando Michael Schumacher ed entrando sempre di più nella leggenda. Adesso l'evidente motivo di interesse di queste 5 gare che mancano al termine del campionato non è quante gare vincerà Hamilton ma è se il pilota inglese riuscirà ad arrivare alle 100 pole position. Con la pole position della qualificazione di sabato l'inglese è a quota 97 ma anche in 5 gare alla fine ci sono tutti i presupposti affinché ci riesca anche perché qualora ce ne fosse ancora bisogno questa gara ha dimostrato che Hamilton seppur guidando una macchina un'astronave la macchina decisamente migliore è un fuoriclasse perché è vero che la Mercedes ha fatto doppietta e dominato questa gara ma ancora di più si è visto lo strapotere oggi di Lewis Hamilton perché dare 25 secondi a Valtteri Bottas di certo non è da tutti a parità di condizioni. Bottas veramente sembrava un Sergio Perez qualsiasi un pilota da metà classifica e invece è arrivato secondo a mezzo minuto di distacco. Hamilton in questa pista ha fatto quello che voleva pole position giro veloce vittoria niente da dire di fronte a questo fenomeno che appunto è giusto riconoscere quando viene fatta una prestazione importante. Il podio di Portimao lo monopolizzano ancora una volta i soliti tre quindi Hamilton Bottas e Verstappen a questo giro in quest'ordine le altre posizioni comunque sono interessanti perché la Ferrari si risveglia con Charles Leclerc che era partito quarto in qualificazione ed è rimasto quarto. Quinta posizione per Pierre Gasly autorevo di un'altra grande gara. Sesta posizione per Carlos Sainz che addirittura ha guidato il Gran Premio per tratti della gara quando non si sapeva bene che prestazioni potevano avere le gomme in partenza. Settima posizione per Sergio Perez che sembra sempre più lontano dalla Formula 1 a meno di Ribaltoni. Ottava posizione Esteban Ocon con la Renault. Nonna posizione per Daniel Ricciardo a sto giro battuto dal suo compagno di squadra Esteban Ocon e incredibilmente torna a punti Sebastian Vettel sia mai che siano punti alti sempre decima posizione trattasi comunque è di certo un passo in avanti per un pilota che ha fatto veramente fatica. In generale parlando della Ferrari possiamo dire che qualche step c'è stato in avanti tutto sommato a già avere due macchine a punti è una notizia per la scuderia di Mattia Binotto che al netto dell'imitazione di Maurizio Crozza probabilmente dopo tanto tempo a cercare di capire qualcosa che sta sfuggendo probabilmente qualcosa ha capito e qualche step c'è stato sulla macchina di Maranello che ha portato comunque a prestazioni comunque non esaltanti per la Ferrari nel generale comunque vedere già Leclerc che è nei primi 5 con costanza e arrivarci anche al traguardo è sicuramente grasso che cola in questi tempi di magra per la scuderia di Maranello. In generale è comunque una stagione fallimentare per la Ferrari però comunque finire nei primi 5 quantomeno per Leclerc è l'obiettivo diciamo dichiarato e nonostante queste prestazioni in generale in colore il Monegasco è ancora in lizza per la quarta posizione anche perché Ricciardo è distante soltanto 5 punti. I motivi di interesse di fatto sono la lotta per la seconda posizione in questo campionato del mondo tra Bottas e Verstappen per quanto il mio obiettivo sarebbe vedere Verstappen riuscire a sopravvanzare Bottas per vedere ancora una volta la dimostrazione del talento lorandese in pista certo che se Bottas con la Mercedes non finisce manco secondo in questa stagione probabilmente la sua stagione sarebbe abbastanza fallimentare nonostante i risultati che vedete in grafica. Per quanto riguarda invece i nostri premi quindi i driver del giorno visto che qui siamo su quattro ruote il premio del driver del giorno lo voglio dare a Charles Leclerc perché appunto come ho detto prima dopo tantissime gare di fatica dopo tante delusioni soprattutto in qualificazione e classifiche in punti bassi della classifica appunto e a volte anche delle debacle clamorose come ritiri e fuori dalla zona punti vedere Leclerc alla quarta posizione è assolutamente positivo e assolutamente interessante quindi io voglio premiare il pilota della Ferrari la mia delusione del giorno invece è il pilota thailandese Alexander Albon perché con la stessa macchina di Verstappen si è preso veramente un'eternità in proporzioni un pochino più grandi è quello che è successo oggi a Bottles rispetto ad Hamilton ed è abbastanza incredibile come Alexander Albon si è messo in discussione perché appunto per lui si parla di addirittura un addio alla Red Bull e forse alla Formula 1 visto che evidentemente i posti per il mercato 2021 sono quasi pieni si parla che potrebbe esserci Hulkenberg al posto di Albon l'anno prossimo e sarebbe un innesto interessante se così fosse ovviamente per quanto riguarda la Red Bull visto che Hulkenberg come seconda guida va più che bene però da una Red Bull ci si aspetta assolutamente molto di più considerato che ok hai a che fare con un fenomeno come Max Verstappen però comunque finire dodicesimo a 10 punti di sacco dall'olandese è veramente un disastro c'è stato soltanto un ritirato in questo game premio che è Lance Stroll che è stato anche protagonista degli incidenti in particolare con Lando Norris parentesi appunto sulla mia McLaren oggi molto bene Carlos Sainz sesto Norris non pervenuto è un momento nero per il nostro landone nazionale che appunto è tre gare consecutive che non finisce a punti comunque la Formula 1 non finisce qui perché appunto ha ancora cinque appuntamenti al termine il prossimo sarà a Imola quindi nella mia regione perché abbiamo delle miglia Romagna primo novembre festa dei santi e festa della Formula 1 speriamo di vedere un gran premio interessante un po' come è stato nei primi giri di questa Portimao che non avrebbe diciamo regalato i valori soliti in queste condizioni di pioggia misto umido sarà un weekend strano perché appunto i piloti saranno lì soltanto due giorni per motivi logistici il gran premio sarà domenica prossima a luna e ci sarà il Racing Podcast anche di quello a sto giro però all'orario canonico delle 19 i prossimi appuntamenti invece sul canale sportivo sono i seguenti domani alle 19 parleremo della MotoGP che ha corso gara 2 di Aragon e poi quando finiranno le World Series del Baseball che finiranno questa settimana arriverà il commento alla conclusione della stagione del Major League Baseball e poi ci fionderemo ancora sui motori per appunto gli ultimi appuntamenti del Mondiale Formula 1 fate sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast se il video vi è piaciuto iscriviti se ancora non l'avete fatto vi ricordo che nel primo canale quello musicale che è sempre sotto in descrizione è uscito un video che parla di un nuovo singolo che mi è interessato degli Architects anche quello in descrizione così come la pagina Facebook dove raccolgo tutti i miei video e saluto da parte di Meteotorg ci vediamo domani con il prossimo video